Altro che cena con il famoso buon bicchier di vino. Chissà quanto e cosa deve avere bevuto venerdì sera un 63enne di San Giorgio delle Pertiche fermato al rientro a casa da una pattuglia dei carabinieri di Campo d'Arsego. L'alcol test ha rilevato un tasso di 2,66 nel sangue, più di 5 volte sopra il limite consentito di 0,5 grammi per litro. Il 63enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, gli è stata ritirata la patente e non gli è stata sequestrata l'auto solo perché era intestata a un'altra persona.